Cantiere avviato a Sassonia di Fano dove sono iniziati i lavori per realizzare la nuova strada prevista dal piano regolatore del porto. Si tratta di un intervento a spese di Marina Gruppo su un'area in concessione demaniale e durante il rinnovo della convenzione l'amministrazione comunale ha chiesto alcune garanzie sui tempi per realizzare le opere. Il consorzio che gestirà il futuro polo della cantieristica e della pesca dovrà realizzare entro il prossimo anno la strada che condurrà dal lungomare mediterraneo al porto turistico. Assessore vedo delle ruspe per cui i lavori sono partiti? Si, i lavori sono partiti, alla fine il calcolo economico sarà di 471 mila euro per queste opere di urbanizzazione, vuol dire la strada, i sottoservizi, l'illuminazione, rete gas e anche parcheggi e il verde che deve essere realizzato nell'ambito delle pertinenze stradali. Quindi un intervento abbastanza consistente che muove anche l'economia. La nuova strada si innesta sulla viabilità esistente in asse con l'intersezione con via Adriatico e poi curva verso destra. Vediamo già anche questa linea tratteggiata che indica praticamente poi la strada. Curva dove costeggeremo la passeggiata dell'Iseppo e quindi questo è il sedime dove viene realizzata l'infrastruttura, questa urbanizzazione che è importante. Per intenderci questo una volta era un parcheggio giusto? Beh questo era il parcheggio dietro al laboratorio di biologia marina che poi ha avuto un'evoluzione diversa nella sua funzione. Qui c'era la diga foranea che adesso è traslata e quindi è cambiata la funzione di quest'area. In questa zona invece verranno realizzati i capannoni. Comunque l'intervento prevede diverse fasi. Dopo questa strada che cosa ci sarà? Ci sarà in uno secondo step la riqualificazione della passeggiata dell'Iseppo che quindi viene risistemata in modo ragionevole. Entro i termini della concessione la realizzazione dei capannoni per le diverse attività del gruppo Marina Group. I lavori per riqualificare la passeggiata dell'Iseppo ad un costo di circa 140 mila euro dovranno terminare invece entro 18 mesi, pena la revoca della convenzione.